Buonasera, ben trovati, Primo Sitter Paris, consueto appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo come di consueto che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi potete fare e richiedere tutto quello che volete. Ospite di questa sera, ci raggiungerà ogni, cioè verrà ospite, il nostro bisogno ogni 20 giorni, è il sindaco di Padova Sergio Giordani. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti voi. Come va, tutto bene? Tutto molto bene. Lei è sempre tranquillo, quando la sento qui tutto bene, poi guardo nei social che lei non segue, non guarda, vedo sempre non va bene questo, non va bene quell'altro, quindi è un po'... Ma fa parte della dialettica politica, ma non mi faccio turbare o condizionare, non leggo, per cui sono tranquillo. Non legge i social? Ogni tanto mia moglie dice, sai cosa hanno detto? Non lo voglio sapere. E perché non lo vuole sapere? Perché mi condiziona, io sono uno spirito tranquillo, non voglio avere accredini, litigare, io sono sereno e tranquillo, faccio quello che devo fare con i miei assessori, con il vice sindaco, cerchiamo di dare il massimo alla città, penso che lo stanno capendo tutti quanti, anche in consiglio comunale, cioè non sono capace di litigare, non voglio, a me disturba queste cose qua. Io penso che la città di Padova abbia bisogno di fatti, non di chiacchiere. Questo per me è indispensabile, niente liti, fare le cose, anche l'ultimo consiglio comunale. Siamo riusciti a raggiungere su due particolari emendamenti, l'unità di intenti sulla povertà, sul diritto delle donne a difendersi, perché deve essere naturale così, non trovo altri maniera... Io non mi sento sindaco, mi sento un po' regista di una situazione. È il sindaco lei, se lei vuole noi. Ho capito, però non sono abituato alle figure politiche, per cui a me sembra di essere una persona che collabora con le istituzioni, con i miei assessori, che facciamo le cose assieme, il gruppo funziona perfettamente, andiamo a cena insieme per dire a tutti quanti, è bello, sono contento, sono sereno, sono tutti bravi. Dopo sbagliamo, è vero, sbagliamo. Errori miei, alla fine, sull'erba, su tante cose. Poi ne parleremo, abbiamo tante cose, anche di quella croce che hanno messo davanti il comune, che è un po' vederla così, un po' anche al di là della cultura che ho letto delle sue dichiarazioni dove ha detto che dobbiamo crescere a ragione, però vedere quelle immagini lì da un po' di questa Italia consanguinanti in crocifisso, davanti il comune non è. Vabbè, poi ne parleremo. Senta, prima di andare a iniziare a parlare, perché il primo tema sarà ovviamente l'ospedale, ma è vero che lei ha telefonato a Berlusconi, ha fatto una chiacchierata? No. Ho visto sui giornali che era anche a Nove Coloni, il titolo dunque è Giornali contro Berlusconi, contro Bitonci, non so, una notoria del genere. Io ho spiegato, quando me l'ha chiesto ho detto no, ho scritto lo stesso, mi dispiace. Allora, è vero che ho parlato cinque minuti con Berlusconi, fino a ottobre, primi giorni di novembre. Ho avuto, stavo parlando con l'avvocato. Quindi l'anno scorso? Sì, basta. Vabbè, perché scrivono queste cose qui, mi scusi? Questo devi chiedere ai tuoi colleghi. No, no, ma chiariamo la faccenda. Se domani Berlusconi ha piacere, anzi, l'ho invitato io a venire a trovarmi quando ho parlato, non c'è problema. Ho detto, mi fa piacere se viene il Presidente a Padova, l'accolgo volentieri. Primo. Secondo, non ho avuto più modo di parlare, io non mi nascondo. Ma questa notizia era un po'... Poi era che prima pace, quindi faceva poco l'amore. Eh, cosa, non so, parla con i tuoi colleghi. Ma poi lei ha parlato con il giornale? Sì, ho detto, ti avevo detto, eh ma qua, là, io sono sicuro. Cosa devo fare? Cioè, lei non ha parlato e il giornalista era sicuro. Io ho parlato, cinque minuti, ero al telefono con l'avvocato Ghedini. Mi ha detto, ah, c'è il Presidente qua. Questo ricordiamo l'anno scorso. Dell'anno scorso, fino a ottobre, adesso non mi ricordo, fino a ottobre, primo momento. Ero al telefono che parlavo con l'avvocato Ghedini, ah, c'è il Presidente qua. Te lo passo, mi fa piacere, ho detto, ho parlato tre, quattro minuti, ho fatto i complimenti per l'elezione. Ho detto, mi fa piacere conoscere la telefonicamente. Se ha modo di venire a Padova, l'accolgo volentieri. Cioè, mi pare una cosa più che naturale. No, no, perché ho detto proprio questo, allora sembrava... Punto, ma finito là. No, no, perché poi sembrano anche che queste diatribe poi servono solo a alimentare la polemica, alimentare le guerre interne. Ma lo sanno perfettamente i miei assessori. Cioè, se faccio qualcosa, loro lo sanno. Se non faccio, cioè, io sono trasparente. Ma io parlo con qualsiasi, voglio essere chiaro, io parlo con qualsiasi, parlo con i centri sociali, parlo con l'opposizione, parlo con tutti. Per me il dialogo è fondamentale. Io risolvo, a me funziona solo così, non sono capace in altre maniere. Io parlo con tutti, ragiono e trovo le soluzioni, senza litigare, senza imporre. Io vivo in maniera serena. Quando mi alzo la mattina, mi guardo in faccia, sono sereno. Per cui mi sto divertendo moltissimo, mi sto divertendo. Non divertendo in senso che rido tutto il giorno. Con i miei portiamo avanti iniziative. Noi sbagliamo, chiaramente, non facciamo tutto giusto. Io per primo non ho esperienza. Per cui, qualche volta si sbaglia. Però siamo protesi a fare le cose per la città. Senza fase politica, noi ragioniamo nell'interesse dei cittadini. Certamente, lo ripeto un'altra volta, possiamo sbagliare. E sbaglieremo ancora nei prossimi quattro anni. Però si può migliorare. Però si può migliorare. Ogni giorno capisco qualcosa. Non era una curiosità perché non posso giornare a quest'articolo. No, lo smentisco in maniera categorica. In maniera categorica. Ma ripeto, non ci serve nulla di male. Anzi, è una persona importante. Ha fatto la storia della politica italiana. Il fatto grave è che lei non ha fatto questa telefonata, mentre in prima pagina ha scritto che l'aveva fatta per andare contro a Bitonci. Insomma, tutte queste storie... Io spero, in cuor mio, stanno facendo il governo, che Massimo Bitonci diventi un ministro importante. Perché, al di là della diatriba politica, è uno che ha fatto il sindaco di Padua, che penso abbia interessi per Padua. Per me è importante avere rapporti con le istituzioni. In primis col governo. Io non sono preoccupato che il governo ci siano i pentastellati e la rega. Assolutamente. Anzi, se c'è Bitonci o qualsiasi altro di Padua, ben venga. Io ho bisogno... C'era Casellati. La Casellati per me è una fortuna avere la seconda carica dello Stato. È una fortuna per Padua. A me interessa Padua. Io ho un vantaggio enorme. Non ho una conformazione politica. Non ce l'ho. So chi voto, mi fido delle persone, ma no, ma non ho una conformazione politica o rendere conto a qualcuno perché mi ha dato qualcosa. Certo. Non ho debiti politici. Di conseguenza, ragiono per la città. Certo. Certo. Beh, guardi, non le dico. L'altra sera ero presente con lei a una cena per premiazioni. È inutile ricordare il club. Ho sentito di quelle voci su di lei che sembra che non lo conoscessero. C'è tutto l'opposto di quelle che sono realmente. Perché poi la vita è anche questa e quindi succede dappertutto così. Però sono chiacchiere e alla fine contano i fatti, come giustamente dice sempre lei. Siete, di fatti parliamo e parliamo dell'ospedale di Padova. L'ospedale di Padova è sotto negli ultimi momenti, addirittura sembra che non si faccia. I terreni, il comune ha delle difficoltà, il comune va tramite legali. Insomma c'è questa storia. Sembra, tanti maligni o benigni come vuole definire meglio lei. Dicono, va a finire che l'ospedale di Padova non si farà nemmeno questa volta. Si ristemerà, si tacconerà, usa un diritto vero il vecchio ospedale e non si fa nulla. Allora andiamo a vedere il servizio e poi lei ci dirà se è vero oppure no. Vediamo il servizio. L'iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Padova è in una fase di stallo. Il comune deve ancora entrare in possesso dei terreni di San Lazzaro in mano ai privati confinanti con l'area pubblica, tanto che per velocizzare i tempi ha dato incarico di procedere ai legali dell'avvocatura civica. Dall'altra parte ci sono i proprietari dei terreni, il consorzio quadrante nord-est, che riunisce le tre società in liquidazione e in mano alle banche Unicredit e Monte dei Paschi a gestirne le ipoteche. Dopo la cessione dei primi 20.000 m2 di terreno per la viabilità e la conclusione dell'arco di Giano, per procedere con la cessione della restante superficie stabilita, 162.000 m2, le banche richiedono un atto formale, o perlomeno notarile, che attesti nero su bianco che su quell'area sorgerà proprio il nuovo ospedale. Circostanza questa che aumenta il valore dei terreni, che secondo gli accordi con la precedente amministrazione rimangono ai privati, ma allo stesso tempo messa in dubbio dall'interesse per il Giustinianeo, tra i punti fondamentali del preaccordo del nuovo polo della salute, firmato lo scorso dicembre dal governatore Luca Zaia e dal sindaco Sergio Giordani. Allora, ci siamo parlati con il governatore Luca Zaia e reciprocamente abbiamo detto prima delle vacanze estive, noi firmiamo l'accordo di programma. Questo non cambia assolutamente. Allora, abbiamo 380.000 m2 di proprietà comunale, posso sbagliare i numeri, 150.000-160.000, 162.000 dei privati e sono ipotecate dalle banche. Nel contratto, e sto attuando il contratto fatto nell'amministrazione precedente, non cambia assolutamente nulla, devono dare le aree. Se non ce le danno, facciamo causa e ce le danno dopo, non cambia niente. Io al fine penso che... C'è solo questione, mi scusi se l'interrompo, del tempo? Ma no, no, no. Nella causa ci prendiamo il tempo, no? No, 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 con 380.000 m2 possono già iniziare a fare l'itero dell'ospedale, sono più che sufficienti, per cui questi sarebbero i parcheggi. Non succede assolutamente. Io penso che alla fine ragioneranno, perché è una causa persa in partenza, sto attuando la procedura della vecchia amministrazione, che condivido. Per cui devono dare il terreno. Sarà questione di mese più, mese meno, ma non è un problema. Io ho intenzione di fare una riunione con il direttore Flor, con gli avvocati della regione, con gli avvocati nostri, e stabilire un nuovo procedura per guadagnare tempo. Non c'è nessun interesse di perdere tempo. Ho detto, e lo ripeto, che prima delle vacanze verrà firmato l'accordo di programma, e questo sarà fatto. No, no, ombre di dubbio su questo. 100%. L'accordo si farà. Come vengono fuori queste voci, allora, sì? Perché Paola è una città chiaccherona, perché posso fare. Ne sento di tutti i colori, non mi preoccupo, non mi faccio turbare. La cosa sarà questa. Noi, prima delle vacanze estive, firmeremo l'accordo di programma. E questo è inutile andare avanti tanto a parlare ciò che abbiamo detto. L'accordo che abbiamo preso io e Luca Zaia sarà rispettato. Non c'è ombre di dubbio. Perfetto, quindi è inutile continuare il discorso. Quelli che hanno qualcosa da dire potranno... Beh, vengono a me, io chiarisco tutte le cose. Non c'è problema. Ecco, ma le difficoltà con i privati di questo terreno, che è ininfluente perché... Loro pretendono che io garantisca che verrà fatto l'ospedale. Non posso garantirlo io. L'ospedale non lo faccio io. Lo fa la regione? Allora dico, voglio l'accordo di programma. L'accordo di programma? Per fare l'accordo di programma devo avere la proprietà. Ma non è un problema. Alla fine cambieranno anche loro. Io penso che il buon senso... Ma quello che mi sbalordisce è che durante la riunione ero d'accordo e giorni dopo trovo sul giornale, non diamo il terreno. Secondo me la gente... Insomma, vabbè, io sono abituato quando dico una cosa la faccio. e mantengo le cose. In questo caso ci sono persone diverse. Non capisco nemmeno perché lo fanno. Oppure lo capisco, non lo voglio dire. Perché non lo vuole dire? Perché mi correlano. Vai in prima pagina, quindi per questo. Già dico molte sciocchezze. Diciamo che i cittadini del Veneto, perché è un polo ospedaliero... Devono stare tranquilli, devono stare tranquilli. A Padova verrà fatto l'ospedale, 900 posti letto. Ma lo sai quanti... A Padova, a Padova Est, avrà fatto un ospedale, 900 posti letto. Sarà definito in collaborazione con l'Università e l'azienda ospedaliera, e la Regione, vuol dire, con ospite, perché non ho facoltà di gestione, il Comune. Cosa sarà fatto? Io sono tranquillissimo. Si farà, si farà. Tutti dicono, no, vedrai. Faranno, lo faranno. Basta aspettare. Basta aspettare. Ed abbiamo aspettato 25 anni. 5 anni, 5 anni per via Giustiniani, 10 anni per Padova Est, 10 anni. Non l'ho detto io, lo dice la Regione, che sia chiaro. Anche io sono sballordito dei tempi. Però mi dicono, questo è normale, è normale. Solo di carte, di pratiche amministrative. La burocrazia che abbiamo realizzato. Burocrazia. Per quanto riguarda Padova Est, sono 3 anni, non lo dico io. Sono l'ultimo a parlare. Quando io ho fatto l'accordo con la Regione e che gli consegno le aree, noi facciamo un passo indietro, non abbiamo proprio nulla da fare. E questo sarà fatto, lo ripeto, prima delle vacanze estive. Io di solito vado in vacanza, la seconda settimana di agosto, perché prima sarà fatto. E sono convinto di questo. Allora, perfetto. Abbiamo chiarito un tema importante, perché se ne discute, se ne discute nelle varie trasmissioni televisive, appunto, è meglio chiarirlo, e chi meglio del sindaco che ce lo chiarisca. E quindi, da quanto dice il sindaco, sicuramente prima delle vacanze estive, il contratto di programma, l'accordo di programma, verrà firmato. Ripeto, il Comune ha già dato di proprietà 380.000 metri quadrati. 12.000 ce l'hanno già dati per fare l'arco di Giano. Con queste 380.000 può già iniziare la pratica dell'ospedale. I 160.000 sono per i parcheggi, per cui non c'è problema. Perfetto, l'ospedale chiudiamo, verrà firmato. È questione di qualche mese, più o meno. Però è firmato. Ma alla fine sono convinto che tutti quanti usino un po' di cervello di buon senso. E questo verrà fatto. E se non fosse così? Io sono sempre ottimista nella vita. È così. È così, perfetto. Quindi è sorridere quando dice così e quindi sarà così. È così. Un altro tema importante invece è la fiera. La fiera di Padova è oggetto di discussioni giornaliere. Ci sono delle giornate dove sembra tutto vada bene, altre che sembra tutto vada male. Non ci ho capito davvero nulla. Credo come non ha capito i cittadini padovani di quello che accadrà e quello che succederà in fiera. Andiamo a vedere in servizio e poi lei ci ricorderà il tutto. Scade il prossimo fine settimana l'ultimatum imposto dai soci pubblici di fiera immobiliare, comune, camera di commercio e provincia, ai francesi di GL Evans, invitati a firmare l'accordo proposto. Le cui clausole non sono ancora del tutto chiare, ma il cui esito è di stonare i debiti ed arrivare ad un nuovo assetto societario per Padova Fiere. Il colosso francese della convenistica, che nel 2005 ha comprato Padova Fiere, ha un pregresso di circa 6 milioni di euro, tra quanto dovuto a fiera immobiliare, inaretrati e canoni di affitto non pagati, e Ageo, la società padovana, che nel settembre 2016 ne è subentrata nell'organizzazione delle manifestazioni con un contratto di affitto di ramo di azienda. Per di più, negli anni di gestione dei francesi, il fatturato della fiera è drasticamente calato. Dai 22 milioni del 2007 si è arrivati ai 5 dello scorso anno, il tutto accompagnato dalla perdita di manifestazioni. Sia Ageo che i soci pubblici nel tempo le hanno provate tutte per salvare il polo fieristico, dal sequestro dei marchi e dei conti correnti di Padova Fiere, ottenendo anche un decreto ingiuntivo. E se anche l'ultimo termine, quello del weekend, non sarà rispettato, Ageo pronta l'istanza di fallimento, operazione per il momento solo congelata. Tutto giusto. Ecco, prima di spiegarci, se lei fosse stato il sindaco di quel periodo, avrebbe venduto la fiera ai francesi? Conoscendo poi il meccanismo. Visto quello che è successo oggi, no. Ma devo dire che in quel periodo, ero nel CDA, quando è stata ceduta, ero favorevole, devo dire, perché era intervenuta una legge in cui c'era l'obbligo di privatizzare le fiere. In quel periodo lì ero d'accordo, tanto per sgombrare. Adesso no. Stanno comportandosi malissimo i francesi, GLM, malissimo. Abbiamo un mese fa, abbiamo risultato un accordo, in dieci ore, con sette avvocati, l'amministratore legato di GLM, tutti i proprietari pubblici, vuol dire il sottocritto, è non solo l'anzo, gli avvocati, e l'hanno disatteso completamente. Io sono molto offeso del comportamento di GLM, non ha rispetto, non di Sergio Giordani, o di Fernando Giglio, o Solanto, non ha rispetto della città. Siamo molto arrabbiati. E cambia, le dichiarazioni che escono sono frutto delle mie chiacchierate con i giornalisti. Mi spiego meglio. L'altro ieri ero abbastanza ottimista perché facevano balenare la possibilità di accordarsi. Ieri hanno cambiato ulteriormente versione. Io sono veramente arrabbiato con GLM e è dal 26 di giugno che sto lavorando su questa cosa, assieme ai miei. A vero ragione qualcuno a dirmi il 26 di giugno vai nei guai perché con questa situazione vai nei guai. Però io non posso pensare di perdere la fiera. La fiera fa parte del patrimonio della città. La fiera è importante per l'indotto, per l'immagine, per l'alberghi, per la ristorazione. Io non posso pensare di perdere la fiera come manifestazioni. Assolutamente. Io farò fino all'ultimo. Il massimo che abbiamo fatto è stato fare istanza di fallimento di Padova Fiere, che vuol dire GLM, perché sono loro i proprietari. Istanza di fallimento per un'azienda quotata in borsa è una cosa grave, ma se non danno risposta entro un weekend, noi faremo istanza di fallimento. Perché Padova Fiere, certamente sì, Padova Fiere avanza molti soldi. Non pagano gli affitti, non pagano gli affitti pubblici, stiamo scherzando. Hanno fatto danni incredibili. Ogni tanto dicono che i francesi sono arroganti, ma sono veramente strani e arroganti. Mi scusi, Sindaco Giordani, ma questa società francese è un'azienda statale, parastatale, privata? No, privata. E quindi possono anche fallire, insomma, se è una società... Certamente sì, possono fallire, però subiscono le conseguenze poi della borsa, perché sono un'azienda quotata in borsa in Francia. A me dispiace fare queste cose. Sembra che li stia ricattando. Loro dicono che li ricattiamo. Loro devono onorare quello che hanno firmato a suo tempo, quando hanno dato la gestione dell'azienda alla GEO, con cui non abbiamo nessun problema, ripeto. L'azienda GEO sta ancora attualmente gestendo la fiera. Noi vogliamo collaborare con GEO. Noi vogliamo... per cui sono soci... c'è l'accordo tra i soci pubblici e GEO. L'unico che si mette di attraverso, in continuazione, che cambia ogni giorno, ogni giorno, ogni qualvolta si parla, cambia opinione. E poi non mi fido più. Quando uno firma un accordo e poi lo disattende in maniera totale, non mi fido più. Un'altra domanda banale, ma sono state fatte le verifiche in queste società, se ha le possibilità, le risorse economiche per affrontare... È una grande azienda, GEO. E per quale motivo allora? È incomprensibile. Io penso che c'è una sostanziale differenza tra i sottoscritti, i soci pubblici e loro. Loro sono a Lione e noi siamo a Padova. Giocano su questa faccenda. Io mi sento, assieme ai soci pubblici, Fernando Giglio, Eno Soranzo, responsabile, perché le manifestazioni... Come faccio a pensare a perdere automoto d'epoca? 115.000 persone. Come faccio a perdere Florma? Come faccio? Non è possibile. Dobbiamo trovare delle soluzioni. Anche oggi ci riuniamo, ogni giorno ci riuniamo. Le soluzioni devo trovarle. Dobbiamo trovarle. È imperativo? È vero. Se adesso mi chiedi, è stato operativamente corretto, cedera. Visto adesso, no? Abbiamo trovato un'azienda, GEO Levis, che ha abbassato in continuazione il fatturato. La nuova azienda, GEO, è ritornata col fatturato, perdendo però molti soldi. Dobbiamo trovare un equilibrio. Io sono convinto che GEO può essere il partner ideale per la società. Sono convinto che i soci pubblici devono tornare protagonisti e proprietari per il bene della città di Padova. Senta, Sindaco Giordani, nell'eventualità che il Comune ha detto questo weekend... Devo dire, c'è anche un'altra cosa molto importante. Il personale. Ci sono 30 persone che lavorano dentro. 30 persone. È importantissimo. Non voglio pensarci. Non posso pensarci. Ma avrà fatto l'ipotesi. Non voglio pensare a questo. Ci pensi? Non voglio pensarci, perché avrebbe fuori un disastro. Non voglio pensarci. Senta, Sindaco, se questo è preciso... Devo trovare il sistema per venire fuori da questo guaio. Mi scusi. Costi, anche il costo di rischiare. Se questo rischiare cosa vuol dire? Vuol dire che se faccio qualche atto sbagliato, ne pago le conseguenze. Io come persona. Io voglio trovare la soluzione. Non posso pensare a te. Allora mi curiosisce una cosa, anche a nome dei cittadini padovani ovviamente, senta. Cosa farà? Se questi non vogliono pagare, da quanti anni è che non pagano gli affitti al comune di Padova? Due anni qualcosa, due anni e mezzo. Facciamo sei milioni tra l'uno e l'altro. Ecco, se non pagano questi sei milioni di euro, lei chiederà il fallimento? Non solo faremo causa, alla fine pagano. E se non li hanno? Però, no, non c'è problema, li hanno, li hanno. Non c'è problema. Il problema è il tempo. Che per le cause vanno avanti mesi, anni. Per cui vuol dire sei mesi, un anno, sette mesi. Ma noi abbiamo necessità oggi, domani, di risolvere il problema. Sotto l'aspetto legale non abbiamo nessun problema. Vinciamo sicuramente e pagheranno tutto. Ma tanti soldi pagheranno a questo punto. Però è relativo a questo. Noi abbiamo bisogno di sistemare il discorso della fiera oggi, domani. Questo è il problema che abbiamo, il tempo. Loro hanno il tempo e loro forze. Loro hanno la proprietà, sono in Francia, non sentono... Sì, ma perché ha necessità, lei, il tempo di concludere? Perché automoto d'epoca, Bacchaglini, deve firmare i contratti con le varie case automobilistiche. Forma, bisogna... Ogni volta che esce un articolo sui giornali... Praticamente per continuare l'attività in fiera. Certo, bisogna continuare. C'è il Gay Pride, automoto d'epoca, sono già tutto avanti. Forma, le cose si fanno in anticipo di sei, sette mesi, un anno. In più, la stampa che vede queste cose, che riporta queste cose giustamente, fa prendere paura a eventuali espositori. Per cui è una situazione delicatissima. Io voglio risolverla con i miei. E la risolvo, anche a costo di rischiare un qualcosa. Ma non riesco a capire cosa rischia. Non lo so, ma non lo so. Il problema è che questi francesi non pagano, non gli interessa. È difficile... Lei richiede fallimento. Oggi la fiera, Padova Fiera e GGLM, loro hanno la proprietà, punto. Loro dicono, non mi interessa. Quindi cosa fa? Sono cause, ma cause vanno avanti del tempo. E quindi cosa fa? Non lo so, non lo so. Vado avanti. Perché se è grave, io ho capito cosa dice lei per la città di Padova, è sicuramente grave che queste manifestazioni non vengano fatte in fiera, perché è anche un fatto di movimento, di immagine, di soldi, di tanto. Però se questi dicono, no, non me ne frega niente. E chi se ne frega, lei cosa può fare se non è il proprietario? Io ho persone valide, avvocati, legali, gente che mi aiuta. Tiriamo fuori la situazione, vediamo cosa facciamo. Tanto dico sempre, sono fortunato in qualche maniera che vengo fuori. Sì, però con la fortuna mi cambia. Con la fortuna si va avanti. Ora ovviamente la fortuna non serve niente, io ho darsi da fare. È dal 26 di giugno che sto perdendo il sonno su questo argomento. Però vede che non dorme la notte. No, dormo la notte. No, prima mi ha detto, però adesso mi ha detto che non dorme. È un modo di dire, nel senso, mi impegno su questo argomento. Ho tantissimi argomenti che mi impegno con tutti. Un po' alla volta arrivavo fuori, perché voglio andare fuori. Io ho detto tante volte, ho un libricino mio, con tutto l'elenco delle cose che devo fare. In cinque anni saranno fatti. Costi quel che costi. È sempre il nuovo però. È sempre quello. È sempre quello. Tutti gli appunti che ho fatto in campagna elettorale saranno fatti. O meno inizieranno ad essere fatti. Sono presuntuoso. No, non è questa presuntuosa. La questione è che la fiera è un bene pubblico. È una risorsa di Padova. Fa parte, a Padova è un grande puzzle. Tutte le tessere devono funzionare. Assieme non si può lavorare divisi. In questo caso ho la fortuna che sia il Presidente della Provincia, sia il Presidente della Camera di Comune, il sottoscritto, i legati, sono tutti quanti... È facile, tra virgolette, lavorare in questa maniera. È facile perché c'è un'intenzione unica di risolvere un problema. Anche quando è difficile, con certi argomenti, vedi l'ospedale, vedi la fiera, tantissime cose. Alla fine si risolve. Alla fine si risolve perché quando uno vuole risolvere, in qualche maniera si risolve. In maniera non lo so. Mari domani lo scoprono. Dopodomani ci ritorniamo il sabato. Ci ritorniamo domani. Bisogna darsi da fare. Staremo a vedere anche quello che succede con la fiera. Non diamo pubblicità perché poi invece cominciano l'erbalta, cominciamo a parlare di tante altre belle cose che qualcuno ovviamente le contesta per quanto riguarda la città di Padova. Voi rimanete con noi tra poco.